Buonasera a tutti, io sono qui a parlarvi della mia lezione, la mia lezione che ha un titolo particolare, Vecchi da morire, che ci può far riflettere, ma visto l'ombrello sotto il quale siamo come tematiche, credo che non spaventi più di tanto. Il tema dominante è il geronticidio, il geronticidio che cos'è? L'uccisione dei vecchi. Ovviamente pensiamolo in un contesto diverso dal nostro, in un contesto spazio-temporale diverso e in questa chiacchierata che farò con voi vi porterò una serie di esempi di questa pratica che a noi oggi pare, come dire, terrificante, inaccettabile, al di là dell'etica, al di là degli aspetti giuridici. In realtà teniamo fermo alcuni punti, proprio antropologicamente parlando, c'è la figura del vecchio nel contesto della società, la figura del vecchio che diventa in qualche modo obsoleta, scomoda, da emarginare, da eliminare. In molte culture questo aspetto veniva affrontato con tutta una ritualità che adesso vedremo, cioè che vedremo nel corso della nostra chiacchierata, certamente con uno spirito diverso da quello che può a volte caratterizzare la nostra comoda reclusione nelle RSA di persone che in qualche modo sono vecchie, no? Fuori dalla società hanno una dimensione fortemente dominata dall'alterità. Un anziano in Africa una volta mi disse, ho sentito dire che dalle vostre parti, dalle vostre parti per lui è l'Occidente, il mondo, i bianchi, disse questo, ho sentito dire che dalle vostre parti voi prendete i vecchi e li portate a morire in una casa dove ci sono tanti altri vecchi, una casa grossa, un palazzone e li lasciate lì a morire. Per loro l'anziano è il cemento armato, è la piglia della storia della casa, scusate, della cultura, della società, quindi immaginare una roba così era devastante, no? E detta così, riportate in una casa a morire, in effetti ci sembra, no, non è così. Poi se però ci pensiamo e ci mettiamo nei panni di una persona, di una cultura molto diversa da noi che ha sentito dire delle cose en passant, frammentarie, e forse non aveva torto, no? Quindi il rapporto col vecchio nella cultura, naturalmente noi non viriamo in sociologia riflettendo su questo tema che abbiamo detto, che comunque è un tema attuale anche in relazione, uno, all'aumento degli anziani innegabilmente, due, al cambiamento di rapporto anche proprio in ambito domestico con le persone più anziane. Guarderemo l'aspetto eminentemente rituale, no? E quindi ci soffermeremo su aspetti appunto di questo tipo, guardando nel passato e facendo un excursus, credo, rapido su appunto questi temi che coinvolgono anche non solo il geronticidio in sé, ma la ritualità, l'antropofagia, insomma tutta una serie di elementi che cercherò di raccontarvi in questa ampia carrellata che questo corso raccoglie, dedicato a un tema che cerchiamo spesso di lasciare a margine e però è parte integrante della nostra esistenza. Grazie e buon corso a tutti.